Fermiamo la strage, Firenze sta sopprimendo tutti i suoi alberi, è solo uno dei tanti cartelli attaccati ai pini in Piazza della Vittoria dai cittadini di un comitato che chiede al Comune di fermare il taglio degli alberi. Il progetto prevede l'abbattimento totale di tutti i 42 pini, partendo dal presupposto è soltanto 10 e per noi in maniera discutibile sono da abbattere. È una cosa che non viene concepita, non viene accettata perché sempre nella progettazione si dice che la prossima ombra sarà fra 30 anni e questi anziani forse 30 anni da aspettare non ce l'hanno. Voi avete fatto anche un esposto alla Procura? Beh sì perché la procedura stessa ha dei punti dubbi per cui ci siamo sentiti in dovere di rappresentare in magistratura semplicemente riportando i documenti del progetto. Voi già avete fatto un incontro in Comune con l'assessore Cecilia Del Re, che cosa vi aspettate? Beh ci aspettiamo che quell'inizio di ascolto vada avanti, vada avanti anche alla luce della nostra proposta perché oggi di questo stiamo parlando, una proposta a valere sui patto di collaborazione. Le prossime mosse saranno appunto redigere il patto di collaborazione con tanto di contenuti, contenuti riguarderanno la piazza, il Mugnone e il Giardino dell'Orticoltura perché è un piano integrato su tre complessi. Alle proteste dei cittadini l'assessora Del Re ha risposto nei giorni scorsi ricordando che per questa piazza l'amministrazione comunale prevede 68 nuovi pini che saranno piantati da ottobre prossimo per un investimento di mezzo milione di euro. Soldi che serviranno anche per consolidare i percorsi pedonali, per potenziare l'illuminazione, per realizzare nuove panchine e la connessione wifi oltre a un bagno pubblico.